E' il Garganos, la montagna bianca che cammina. Come vedete queste colonne al centro purtroppo creano un buco, una voragine che sarà incolmabile per l'incontro. Quindi vi chiedo cortesemente di essere molto pazienti perché il meglio sarà ancora da vedere. Perciò che si tratta di un'altra parte, perciò che si tratta di un'altra parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.